Santo Padre, le siamo davvero molto grati per averci accolto anche quest'anno per la consegna dei premi Ratzinger. Lo scorso anno l'aggravarsi della seconda ondata della pandemia aveva costretto a rinunciare all'appuntamento che lei gentilmente ci aveva già concesso e che a lungo avevamo sperato si potesse realizzare. Perciò quest'anno abbiamo invitato a venire anche i premiati dello scorso anno, perché insieme ai nuovi premiati potessero ricevere il diploma dalle sue mani. La rinuncia all'appuntamento dello scorso anno è così compensata dalla maggiore solennità di questo incontro, in cui abbiamo la gioia di avere presenti ben quattro illustri personalità insignite del premio. Fra breve esse le saranno presentate da due membri del comitato scientifico, il comitato da lei nominato per proporre alla sua approvazione le candidature del premio. Questo incontro per la premiazione è l'atto principale della vita di questa sua e nostra fondazione, che è stata voluta dal suo predecessore per promuovere lo studio della teologia, delle scienze sacre e umane e delle arti cristianamente ispirate. I convegni scientifici, che pure qualificano la nostra attività, hanno subito una pausa negli ultimi due anni a motivo della pandemia, ma speriamo di poterli presto riprendere. Invece le assegnazioni di borse di studio sono continuate e si sono potute realizzare anche pubblicazioni, si è continuata la collaborazione con diverse università, le Pontifice di Roma, la Francisco de Vittoria di Madrid, la Niccolò Copernico di Torun in Polonia. La serie dei premiati è ormai ampia, abbraccia 24 studiosi di 15 Paesi di tutti i continenti. Le discipline da loro coltivate spaziano dai diversi campi della teologia, della filosofia all'arte. Un orizzonte affascinante che si va allargando di anno in anno. Un'attestazione concreta dell'apprezzamento della Chiesa per l'impegno nello studio e nella ricerca della verità e della bellezza. Questo premio non è un riconoscimento per una singola opera particolare, ma per il lungo e approfondito lavoro delle personalità che le presentiamo, dimostrato dalle loro pubblicazioni e dall'insieme delle loro opere. A loro va dunque la nostra gratitudine per aver saputo condividere con un vasto pubblico i frutti delle loro fatiche. Ma ora è tempo di lasciare la parola alla presentazione dei singoli premiati. Chiedo dunque, anzitutto al Cardinale Gianfranco Ravasi, di presentarci i due premiati dell'anno 2020. Grazie, Eminenza. Santità, nella sua ormai lunga storia il premio Ratzinger ha scelto in queste ultime edizioni di allargare il suo orizzonte, come ricordava padre Lombardi, oltre il perimetro fondamentale della teologia, affacciandosi anche su altre discipline che sono state oggetto spesso di suggestive analisi da parte dello stesso protagonista del premio, sia nella sua ricerca teologica, sia nel suo magistero papale. Sono così entrati in scena un importante storico della cultura come il francese Rémy Bragg, un famoso musicista estone come Arvo Pert, il noto architetto svizzero Mario Botta e il grande sociologo canadese Charles Taylor. Tutti costoro hanno sempre puntato il loro sguardo e le loro indagini anche nel campo della religione e della spiritualità. Questa volta è uno dei più significativi filosofi contemporanei, il francese Jean-Luc Marion, docente alla Sorbona, accademico di Francia e membro del Pontificio Consiglio della Cultura, ad essere cooptato tra i premiati dell'edizione 2020. La sua riflessione, sempre attenta anche al discorso religioso e affidata a un'imponente bibliografia, si è sviluppata lungo due direttrici fondamentali, quello della storia della filosofia e quello della fenomenologia. Nella storia della filosofia sono fondamentali i suoi contributi su Descartes, Cartesio, e la storia della metafisica. Tuttavia è nella fenomenologia che si colloca il contributo di Marion sulla scia di nomi ormai altrettanto celebri come Levinas, Ricoeur e Derrida. E lo ha fatto attraverso una vasta produzione che ha ricevuto diverse traduzioni in molte lingue. Egli ha cercato di mostrare che la questione dell'essere, per quanto centrale nella metafisica, va integrata, non è quella fondamentale ed esclusiva, va integrata e superata secondo un duplice movimento, in senso orizzontale, dall'etica, intesa come amore e donazione e in senso verticale come trascendenza apertura, la trascendenza teologica. Marion parte dall'atto della donazione e del dono e sviluppa il concetto di fenomeno saturo, cioè una sovrabbondanza di significato che è presente nel fenomeno stesso e che è applicabile anche alla filosofia e all'arte. Ha così delineato una fenomenologia dell'amore, le fenomen erotique, dell'essere come dono, che ha la sua espressione più completa in un suo saggio molto famoso, étant donné, essè di un fenomenologie de la donazione del 1997, un tema questo della donazione che ha scandito però titoli e contenuti di altri suoi saggi, come per esempio, a partire dal primo, le prolegomen de la charité. Dall'Australia invece proviene la teologa Tracy Rowland, che dopo la formazione accademica nella sua patria ha approfondito i suoi studi anche in Europa, a Cambridge, Londra e a Roma presso l'Università Lateranense. Fin dalla sua dissertazione dottrinale intitolata After Gaudium et Spes, sul dialogo tra la cultura della modernità e un tomismo agostiniano quasi postmoderno, significativa è stata la presenza per lei del pensiero di Joseph Ratzinger, accanto ad altri maestri come De Lubac e MacIntyre. La sua ricerca si è sviluppata nella teologia fondamentale e nell'antropologia teologica lungo un itinerario di dialogo-confronto con la cultura, presentando spesso un'originalità al mondo contemporaneo, presentando il cristianesimo dell'incarnazione. Emblematici in questa prospettiva sono sia la sua opera Benedict XVI's Guide for the Perplexity del 2010, che nel titolo Guida dei Perplessi rimanda, oltre che a Benedetto XVI, ha l'esperienza medievale giudaica del dialogo tra fede e ragione di un famoso filosofo ebreo, Mosè Maimonide del XII secolo. Sia anche rilevante il suo saggio sulla Ratzinger's Faith, tradotto in spagnolo, portoghese e polacco. Eletta nel 2014 da lei, Santità, membro della Commissione Teologica Internazionale, Tracy Rowland, con la sua ricerca, ha costruito un ritratto importante del Ratzinger teologo, ma ha anche offerto uno sguardo significativo riguardo alle sfide della Chiesa nella teologia post-conciliare e nella cultura contemporanea. A questo punto, a suggello, a conclusione di questo dittico, dai ritratti che sono però minimi ed essenziali di questi due premiati, vorrei lasciare la voce, in conclusione, a due figure fondamentali nella storia della teologia. Personaggi capitali anche nella riflessione di Josef Ratzinger, Benedetto XVI. E sia pure, secondo prospettive e forme diverse, figure basilari anche nel percorso teologico-filosofico dei quattro premiati, di tutti i premiati, e quindi anche del successivo dittico che sarà tracciato dal Vescovo di Regensburg. La prima voce è quella di un padre della Chiesa decisivo nella storia dell'Occidente, Sant'Agostino, che esalta questo tema, la centralità del pensiero nel fare teologia, anzi, nello stesso credere. E il pensiero elaborato è un antidoto, una sorta di vaccino anche, contro la dominante tentazione odierna della semplificazione banale e della superficialità, anche nella comunicazione religiosa. affermava, nella sua De Predestinazione Sanctorum, affermava in modo folgorante e apparentemente paradossale, «Ogni credente, credendo pensa e pensando crede. La fede, se non è pensata, è nulla». Latino poi ancora più «Omnis qui credit, et credendo cogitat, et cogitando credit. Quognam fides, si non cogitatur, nulla est». La seconda voce, alta e forte, è naturalmente quella di Tommaso d'Aquino, che ricerca spesso la polifonia, un tema che è caro anche a vostra santità, la polifonia del nostro conoscere, che ha a disposizione più canali di conoscenza, non solo uno. La logica formale, razionale, l'analisi scientifica fenomenica, quella estetica, pensiamo la via pulcritudinis, la conoscenza d'amore anche, che è diversa dalla razionale, la fede e la fiducia. Contro ogni esclusivismo settoriale, ogni specializzazione autosufficiente e autoreferenziale, il Dottore Angelico propone la visione simbolica e unitaria della, come la chiama lui, la sapienza. La sapienza, che è molto di più del solo sapere intellettuale e della sua affermazione. La famosa intelligenza aperta di cui parlava, appunto, Benedetto XVI. D'altronde in latino sapere, come primo significato, non è sapere, ma avere gusto, quindi avere un atteggiamento globale. E allora, ecco, lascerei la parola, appunto, la voce finale, come prima ad Agostino, a Tommaso. Tra gli impegni a cui si possa dedicare un uomo, nessuno è più perfetto, più sublime, più fruttuoso e dolce della ricerca della sapienza. Il sapiente ama e onora l'intelligenza piena, che, tra le realtà umane, è quella cui Dio riserva l'amore più intenso. La teologia, infatti, è come un'impronta in noi della sapienza divina. Ecco, queste due stelle quasi ideali, pensiero e sapienza, hanno brillato nel cielo ideale, spirituale, delle riflessioni teologiche e filosofiche dei premiati di questa edizione del premio. Grazie. E ora prego, Sua Eccellenza, Monsignor Rudolf von der Holzer, di presentarci i due premiati di questa edizione 2021, che egli conosce molto bene. Grazie, Eccellenza. Santo Padre, Eminenze, Eccellenze, Stimati Premiati, Gentili Signore e Grechi Signori, ho l'onore di presentarvi i due premiati dell'anno 2021. La Fondazione Ratzinger ha voluto onorare la professoressa Anna Barbara Gelfalcovitz, una filosofa che si è concentrata sulla filosofia della religione e sull'antropologia culturale. Ciò appare evidente anche a fronte delle personalità trattate nella sua opera, Edith Stein, ovvero Santa Teresa Benedetta della Croce, e il filosofo della religione romano Guadini. La professoressa abbina a queste due grandi figure il metodo della fenomenologia, ovvero dell'essata osservazione e descrizione. La professoressa Gelfalcovitz è nata nel 1945 nella piccola località di Oberwappenöst, di Occe City Ratisbona. Dopo gli studi universitari a Monaco di Baviera e Heidelberg, è seguito nel 1971 il dottorato in filosofia a Monaco di Baviera con una tesi sul filosofo rinascimentale Lorenzo Valla. Dal 1975 al 1984 essa è stata responsabile degli studi a Burg Rotenfels, il centro di formazione strettamente legato anche all'opera di Romano Guadini. Nel 1979 essa è stata abbigliata. La tesi di abilitazione alla libera docenza era intitolata Traduzione dell'Etica Nicomachea di Leonardo Bruni. Dal 1993 al 2011 la professoressa Gelfalcovitz è stata titolare della Cattedra di Filosofia, della Religione e di Scienza Comparata delle Religioni presso l'Università Tecnica di Dresda. Dopo il suo pensionamento, essa è tuttora instancabilmente attiva come autrice e relatrice, non per ultimo anche presso conferenze pastorali e in ritiri spirituali. Nell'Istituto Superiore Papa Benedetto XVI di Heiligenkreuz presso Vienna e si dirige dal 2011 l'Istituto EUFRAT e l'appreviazione di Europeisches Institut für Philosophie und Religion, cioè Istituto Europeo per la Filosofia e la Religione. Cito solo alcuni titoli dalla lunga serie di sue pubblicazioni. Romano Guadini, La vita e l'opera. Inesorabile luce, Edith Stein, Filosofia, mistica, vita. Perdonare l'imperdonabile, esplorazioni in contesti di colpa, pentimento e perdono. Frau, Menin, Menschen, trafeminismo e cenda. Si aggiungono a tutto ciò cariche onorifiche e incarichi di consulenza. La professoressa Gjalfalkovic è infatti dal 1992 presidente dell'Associazione Freundeskreuz-Musshausen, ha fornito una consulenza scientifica all'editore dell'edizione critica integrale delle opere di Edith Stein presso la casa editrice Herda di Friburgo ed è coneditrice dell'edizione integrale italiana delle opere di Guardini. Parlando di se stessa, la professoressa Gjalfalkovic riferisce di avere mantenuto la fede e di essersi introdotta in essa sempre più profondamente, soprattutto grazie alla filosofia. Le sue esperienze in qualità di precursore al credo in un contesto ampiamente ateistico presso l'Università Tecnica di Dresda, nell'est della Germania, sono da essa continuamente portate in modo straordinariamente fruttuoso nelle discussioni nell'Ovest del Paese, anche esso interessato dal progredire della secolarizzazione. Con le sue ricerche sull'antropologia dei sessi e con il suo colloquio con diverse grandi figure femminili, essa ci regala un prezioso contrappeso al livellamento gnostico della polarità di uomo e donna. La professoressa Gjalfalkovic è una testimone della reciproca dipendenza tra fides e razio. La fede senza ragione e quindi senza filosofia diviene fanatica. La ragione senza fede diviene al fine cieca. Essa rappresenta quindi uno dei temi centrali di colui il quale ha dato nome a questo premio che le viene oggi assegnato a piena ragione. Congratulazioni. Applausi. Il professor Lutga Schwinhorst-Schönberger è un Biblista. Nato nel 1957 a Lüdinghausen nel nord Rino-Westfalia, ha studiato teologia a Münster e Gerusalemme. Dopo il dottorato nel 1989 e l'abilitazione nel 1992, nel 1993 è divenuto professore di esegesi del Vecchio Testamento e di lingua ebraica a Passau. Nel 2007 egli ha ricevuto la chiamata per la Cattedra di Scienze Bibliche del Vecchio Testamento presso la Facoltà di Teologia Cattolica dell'Università di Viena. Cito solo alcune pubblicazioni apparse fra gli anni 1986 e 2015. Il libro dell'Allianza Esodo, capitolo 20, la sua tesi di dottorato. La fortuna non è fondata nell'uomo. Coelet, capitolo 2, la sua tesi di abilitazione. Studi sul Vecchio Testamento e sulla sua ermenoetica. Il libro Coelet, nei commenti teologici di Herda sul Vecchio Testamento. Il Cantico dell'amore, commento sul Cantico dei Cantici. E attendiamo con gioia e particolare interesse la nuova pubblicazione attesa per la primavera del 2022, Teologia del Vecchio Testamento. Il professor Schoenberg mostra nella sua opera che la sintesi richiesta dall'articolo 12 della Costituzione sulla rivelazione dei verbum, tra esegesi storica, da un lato, e interpretazione tradizionale della scrittura dall'altro lato, considerazione dell'unità della scrittura, dell'analogia fide, eccetera, sul modello dei padri della Chiesa, non è stato un cattivo compromesso, bensì l'unico approccio adeguato alla testimonianza della rivelazione, nella quale la parola di Dio, divenuta carne, raggiunge il proprio apice e la propria conclusione. Senza sottovalutare le nozioni dell'esegesi storica, il professor Schoenberg afferma tuttavia la riabilitazione della comprensione tradizionale della scrittura, proprio come è stato formulato in modo particolarmente efficace da Sant'Agostino, Novom Testamentum in Veta Relatet, Vetus in Novo Patet. È tuttavia necessario a tale scopo un cambiamento di paradigma nella scienza biblica moderna, che il professor Schoenberg non ha solo egli stesso condotto, bensì anche chiaramente descritto. E' quindi interiormente coerente che il professor Schoenberg non sia solo un esperto biblico, bensì in qualità di ricercatore del senso spirituale, anche un richiesto docente ecclesiastico e una guida alla contemplazione. Egli è quindi un degno vincitore del premio Ratzinger, poiché uno dei temi teologici centrali di Giosef Ratzinger, Papa Benedetto XVI, è lo sviluppo del messaggio del credo da una visione biblica complessiva. Congratulazioni anche al professor Schoenberg. E ora chiedo al Santo Padre di consegnare i diplomi del premio a ognuno dei nostri premiati. Il professor Jean-Luc Marion, se vuole avvicinarsi. Grazie. 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 Cari fratelli e sorelle, a tutti voi rivolgo di cuore il mio benvenuto. Ringrazio il Cardenale Rabassi, il Monsignor Budajosa, il Padre Lombardi per le loro parole di introduzione e presentazione. Saluto le personalità qui presenti insegnate dal premio Ratzinger, il Professor Jean-Luc Marion, la Professoressa Tracy Rowland, che l'anno scorso non abbiamo potuto festeggiare a causa della pandemia, la Professoressa Anna Barbara Ger-Fescovic e il Professore Lurel Schiedenhorst Schoenberger, che ricevono il premio quest'anno e con piacere accolgo i loro familiari e amici. Saluto i responsabili della Fondazione Vaticana, Joseph Scharzinger Benedetto XVI, i membri del Comitato Scientifico del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori, con i loro sostenitori, amici e collaboratori. Io sono lieto che dopo l'interruzione dello scorso anno possiamo riprendere la bella tradizione di questo incontro. La gradita partecipazione di diverse personalità premiate negli anni precedenti dimostra anche essa che questo atto, oltre a riconoscere gli alti meriti culturali di alcuni studiosi e artisti, stabilisce un legame durevole, una relazione feconda per la presenza e il servizio della Chiesa nel mondo della cultura. La comunità dei premiati si allarga ogni anno, oltre che nel numero anche nella varietà dei paesi rappresentati, ormai 15, in tutti i continenti, compresa le Oceania. Oggi avevamo infatti con noi la professoressa Rowland, venuta appositamente dall'Australia, grazie alla recente riapertura dei viaggi. E come abbiamo sentito, si allarga pure nella varietà delle discipline di studio e delle arti coltivate. La dinamica della mente e dello spirito umano è davvero senza confine nel conoscere e nel creare. Questo effetto della scintilla accessa da Dio nella persona fatta a sua immagine, capace di cercare e trovare significati sempre nuovi nel creato e nella storia, e di continuare a esprimere la vitalità dello spirito nel plasmare e trassicurare la materia. Ma i frutti della ricerca e dell'arte non maturano per caso e senza fatica. Il riconoscimento va quindi, nello stesso tempo, all'impegno prolungato e paziente che essi richiedono per giungere a maturazione. La scrittura ci parla della creazione di Dio come di un lavoro. Rendiamo dunque omaggio non solo alla profondità del pensiero e degli scritti o alla bellezza delle opere artistiche, ma anche al lavoro, spesso generosamente e con passione per tanti anni. Al fine di arricchire l'immenso patrimonio umano e spirituale da condividere. È un servizio inestimabile per l'elevazione dello spirito e della dignità della persona, per la qualità delle relazioni nella comunità umana e per la fecondità della missione nella Chiesa. È bastata la breve presentazione dei premiati e delle loro opere, che abbiamo ascoltato poco fa, per sentirci affascinati e attratti nelle correnti dello spirito. Ci ha invitato a spaziare nella riflessione filosofica sulla religione, all'ascolto e all'interpretazione della parola di Dio, al cantico dei cantici e alla fenomenologia dell'essere e dell'amore come dono. Abbiamo sentito evocare i nomi dei maggiori interlocutori del nostro lavoro intellettuale, grandi maestri della filosofia e della teologia del nostro tempo, da Guardini a Dulwak, da Edith Stein a Levinas, Ricoeur e Derrida, fino a McIntyre, e altri se ne potevano aggiungere. Ci educano a pensare per vivere sempre più profondamente il rapporto con Dio e con gli altri, per orientare l'agire umano con le virtù e soprattutto con l'amore. Fra questi maestri va annoverato un teologo, che ha saputo aprire e alimentare la sua riflessione e il suo dialogo culturale verso tutte queste direzioni insieme, perché la fede e la Chiesa vivono nel nostro tempo e sono amiche di ogni ricerca della verità. Parlo di Joseph Schrazzinger. Questo premio viene giustamente attribuito nel nome del mio predecessore. E dunque per me, insieme a voi, l'occasione per rivolgere a Lui ancora una volta il nostro pensiero affettoso, riconoscente e ammirato. Pochi mesi fa abbiamo reso grazie al Signore insieme a Lui in occasione del settantesimo anniversario della sua ordenazione sacerdotale. E sentiamo che Egli ci accompagna con la preghiera, tenendo il suo sguardo continuamente rivolto verso l'orizzonte di Dio. Basta guardarlo per la cosa. Oggi lo ringraziamo in particolare perché è stato anche esempio di dedizione appassionata allo studio, alla ricerca, alla comunicazione scritta e orale, e perché ha sempre unito pienamente e armoniosamente la sua ricerca culturale con la sua fede e il suo servizio alla Chiesa. Non dimentichiamo che Benedetto XVI ha continuato a studiare e scrivere fino alla fine del suo pontificato. Circa dieci anni fa, mentre adempiva le sue responsabilità di governo, era impegnato a completare la sua trilogia su Gesù e così lasciarci una testimonianza personale unica della sua costante ricerca del volto del Signore. È la ricerca più importante di tutte che Egli poi ha continuato a portare avanti nella Chiesa. Ce ne sentiamo ispirati e incoraggiati e Gli assicuriamo il nostro ricordo al Signore e la nostra preghiera. Come sappiamo, le parole della terza lettera di Giovanni, cooperatore Sveritatis, sono il motto da lui scelto quando divenne arcivescovo di Monaco. Esse esprimono il filo conduttore delle diverse tappe di tutta la sua vita, dallo studio all'insegnamento accademico, al Ministero Episcopale, al Servizio per la Dottrina della Fede, a cui fu chiamato da San Giovanni Paolo II, quando quaranta anni fa, fino al fontificato caratterizzato di un luminoso magistero e un indefettibile amore per la verità. Cooperatore Sveritatis è perciò anche il motto che campeggia sul diploma che viene consegnato ai premiati perché continui a ispirare il loro impegno. Sono parole a cui anche ognuno di noi può e deve ispirarsi nella sua attività e nella sua vita. E che lascio a tutti voi, cari amici, come augurio insieme con la mia benedizione. Grazie. Dominus Hobbiscum Signomen Domini benedictum Aiuterium Nostrum in nomine Domini Benedica il Vosso, Omnipotes Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Amen.